Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Grace, proseguiamo la nostra avventura con il gioco di Ghost Recon with the Lance. Allora amici, mi trovo già qua in zona, dobbiamo andare a raccattare Yayo, se non sbaglio, che si chiama così, vediamo un attimo, vediamo un attimo ragazzi. Ok, andiamo a raccattare Yayo, va bene, ok siamo in zona, siamo in zona ragazzi, allora avanziamo, cazzuti e cattivi come sempre, dunque dunque dunque. Occhio, presenza nemica. Ehi, soldato del cartello, lì dentro l'assienda. Dentro l'assienda. Il busto è questo, facciamo le cose con calma, se il cartello scopre che siamo qui, uccideranno subito Yayo. Ricevuto. Ho un altro persaglio. Un attimo, ti scopriranno. Allora, vediamo se c'è un'altra entrata secondaria, va. Un'altra entrata secondaria, in modo tale che non dobbiamo irrompere di violenza, visto che hanno detto che lo potrebbero uccidere. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Così ti scoprono indietro. No, che non ti scoprono, dai. No, che non ti scoprono, dai. Algo sta passando. Qua ne arrivano due. Andiamo qua. Ok. Grandi così. Ok, siamo dentro, eh. Ok. Andiamo su. Vieni qua, vieni qua. Andiamo, 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 forza. Non perdiamoci in cuance. Cattiamo un veicolo adeguato. Anche questo qui fuori, esatto, questo. Sì, 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 sì. Avrete anche un. Sembra il top. Ok. E proseguiamo. Un attimo, vado io. Non seguiamo, ragazzi. Dovi andate, io arrivo subito. Dove mi state portando? Da una persona che vuole farti qualche domanda sulle tue attività con il cartello. Vi dirò quello che volete sapere. Ma solo se la mia famiglia è al sicuro. Capito? Altrimenti, riportatemi dove mi avete trovato. Non mi avete ancora detto chi siete. Ho sentito voci su dei fantasmas che bruciano edifici. Arrivati, arrivati. Fanno sparire. Forza, forza. Ma non rilassiamoci. Diamo che torneremo presto in azione. Roger. Vieni, Iaio, vieni, vieni, forza. Forza, forza. Dovevo immaginarlo. Che la CIA avrebbe mandato i suoi sicari. Simon Bolivar diceva che gli Stati Uniti avrebbero causato la rovina delle Americhe. Ora quella rovina si è abbattuta su di me. E il suegno alla sua famiglia? Dovevate pensarci? Questi quattro operatori sono la tua possibilità di salvare la tua famiglia. Preferisci giocare o seppellire altri cari? Salvate i miei. Poi deciderò se parlare. Ok, quindi dobbiamo trovare Zui e Rosso. La famiglia di Iaio è in un villaggio chiamato Baia Floresta. Dobbiamo fare in fretta. Se il suegno scopre che è scappato, la sua famiglia muore. Ok. Andiamo, 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 andiamo. Era un civile, non era un bersaglio. Oh mio Dio. Ok, ottimo ragazzi. Tenente, non te ne frega una minchiazza. Dobbiamo andare a raccattare la moglie e la figlia. Come va là fuori? Il mio ospite è teso. Trovato alla famiglia di Iaio? Stiamo lavorando. Capito, fate in fretta, ok? Sarebbe ironico se gli venisse un infarto mentre affetta la moglie e il figlio. Roger. Ok ragazzi, facciamo un po' di pulizia adeguata. Allora, io presuppongo che siano qua dentro. Esattamente qua. Allora. Avanziamo, saliamo. Sono qua sotto, ok. Puntano alla moglie e al figlio. Fermateli. Grazie. Vedevo la vita, hermano. Allora, prima volta di forza. Ho chiamato i ribelli per avere dei rinforzi. Non mi toccare. Calma, te ciui. Ci manda tuo padre. E tu ti aspetti che ci creda. Credi al cazzo che vuoi? Basta che stai zitto e fai quello che dico. Ora seguimi. Abbiamo i due pacchi. Portiamoli dal loro vecchio. Allora, ciui, tieni giù la testa. Che qua ci mitragliano le chiappette. Allora. Vediamo un po' se riusciamo a... Andarcene via. E dreggiamente con l'elicottero. Allora. Ok, via, via, ragazzi. Via. Non è male che qua vicino. Buona linea di tiro. Ingancia. Ottimo, ottimo, direi. E' tutta colpa del vecchio, vero? Avido e orgoglioso. Un pessimo binomio. Ehi, calma. Ci siamo. Siete al sicuro adesso. Forza, forza, forza. Dov'è l'altro babbo di minchia? No, sta facendo piedi perché non è riuscito a salire sull'elicottero. Attendiamo che arrivi il babbazzo di minchia. Che rosa, per fortuna, è riuscito a salire sul nostro veivolo. Invece con il minchione là direi proprio di me. Ok. Atteniamo, attendiamo. Ok. E' arrivato. Perfetto. Estraiamo. Rodolfo. Mirosita, sta spiendo. Sì, mi vida. Papa, in che guai oggi hai trascinato, vecchio? Ti ho appena tolto dai guai, sai? Non aspettarti che ci creda. Voi Yankee non fate altro che portare problemi in Bolivia. Sarò troppo giovane per aver marciato coi cocaleros. Ma ho visto le cicatrici di quelli impestati. Ma piantala. Basta con queste stronzate anti-americane. Non siamo il nemico. Ma non siete certo amici? Calma, dai. Ho fatto patte con molti diavoli nella mia vita. E l'ho sempre fatto per proteggere la mia famiglia. Per il bene della mia gente. Per il bene dei cocaleros. Adesso ho fatto un patto con te, agente Bauman. So che me ne pentirò. Ma per ora ci permetterà di sopravvivere. Bauman ha quello che voleva? Non è contento nessuno, ma sembra di sì. Ingrati. Lo sanno che gli abbiamo salvato la vita, vero? Io so solo che il cartello farà fatica a produrre cocaina senza il giaio. Il resto non è affar mio. Ricevuto. Ok. Anche il giaio l'abbiamo raccatturato, raccattato. Ottimo direi ragazzi. Ottimo. Perfetto. Dunque, dunque. Adesso ci rimane da vedere, in caso che non ci dovesse andare a chiamare la nostra collega, di andare a vedere, di andare a vedere l'ultima missioncina esattamente per quanto riguarda Ricky Sandoval, che si trova esattamente qua. Ok. Abbiamo dati sulle possibili coordinate dei resti dell'agente Sandoval. Cercate il cadavere nell'area e marcatelo per il recupero. Facciamo il possibile per portare a casa Sandoval. Ok. Allora, andremo successivamente a raccattare Sandoval e dopodiché ci andremo a godere il nostro secondo finale, visto che ci è stato promesso dal videogioco. Ok. Amici, io direi che il nostro episodio termina qui. Spero che la nostra avventura vi sia piaciuta. A caso se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Se è piaciuto il video, lasciate un bel like. Vi ringrazio per il mio iscritto. Ci vediamo con il prossimo gameplay. Un saluto a tutti da ChrisGamer78. Io direi che il nostro video. Grazie.